Michele al tiro ma il portiere para ecco Gabriele al tiro parata ancora di Michele che questa volta è in grande forma l'azione susseguente al calcio d'angolo vediamo un poco e ancora questa parata ma questo Michele è venuto con forti intenzioni oggi palo è ancora palo è un assedio è un assedio ancora tiro lo stai riprendendo tutto? grande Gabriele grande grande grande